Non è sfuggito all'opposizione il servizio del TG Norba sull'infornata di 15 nomine da 281 mila euro di compensi nell'ambito del Comitato Regionale Anticrisi Economica. Cianaro Forza Italia chiede alla Giunta Vendola di superare il sistema delle chiamate dirette per gli esperti da inserire nell'organismo consultivo. Pur riconoscendone il valore, si tratta della Task Force per l'occupazione del lavoro, l'esponente della minoranza contesta i maxi stipendi, circa 18 mila euro a componente. Visto che sono così alti, suggerisce meglio renderli trasparenti con un avviso pubblico. In alternativa, si potrebbero utilizzare nel Comitato i dipendenti regionali, risparmiando i compensi tutti caricati sulla collettività. In caso contrario, pizzica Cianaro, è forte il sospetto di un ennesimo poltronificio e per giunta sotto elezioni. Ma l'assessore al lavoro respinge l'affondo. La Task Force, replica Caroli, si è rivelata uno straordinario antidodo contro la disoccupazione. Ha affrontato ben 128 tavoli, divertenze aziendali, con diversi esiti positivi negli ultimi anni. Inoltre puntualizza solo la metà dei componenti e esterne viene pagata. Il resto del Comitato è formato da dirigenti regionali. Infine, l'assessore fa notare che la Regione si è limitata a stabilire un impegno di spesa per il rinnovo della Task Force, che potrà essere revocata dalla nuova giunta regionale entro tre mesi dalle elezioni del 2015.